Questa è la signora Mbembe, che ha un problema con la macchina di... Questa è un'agenzia funebre, non aggiustiamo elettrodomestici, mi dispiace. Sai anche che la ruota è stretta? Ma come foda? Ma che qualcosa! Ma che cosa? Sì, io vengo dalla città, da Napoli! Ma lei? Eh, che è nato, non ti ho spiegato. Questa è... Si capisce? Si è chiamato da un dottore secultore, ti chiamo a... Tu hai spiegato l'inglese, ecco. Noi qui siamo due, due io l'uno, operatori di pompe e fume. Noi, voi vedete dalla piensa del proprio presso, so a... Cosa direnca, noi ci occupiamo di molti, i migliori molti. Sopur! 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 Sopur, hai chiamato? Sopur, hai chiamato! Sopur, hai chiamato! Sopur! 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 Puoi dire che è una griega. Sopur! 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 Ehi, parlate qui con mio fratello Gaetano, mi sa qui, tu ce la sai carico? Ma certo, non lo conosco, padre è tanto che lo conosco. Io non la capisco perché non la capisco, e se non la capisco io non la capisco niente. Andiamo!